Oltre alla sua prolifica attività di architetto e designer, Achille Castiglioni è stato anche docente di disegno industriale prima al Politecnico di Torino e poi al Politecnico di Milano. Ha trasmesso ai suoi studenti la sua passione e vivacità intellettuale esortandoli a essere sempre curiosi. Per dirla con le sue parole, se non siete curiosi lasciate perdere. Ha infatti sempre incoraggiato i suoi studenti a guardarsi intorno, a osservare le cose, a pensare agli oggetti, ai modi nuovi, spingendoli verso la sperimentazione e l'innovazione. In questa lezione ci concentreremo su una selezione di oggetti di Achille Castiglioni che bene esprimono il suo desiderio innato di curiosità e il suo approccio giocoso alla progettazione. Carlo, cosa dici se iniziamo da ready made? Tanto caro ai Castiglioni? Bene, allora cominciamo la lezione con l'iconico sgabello Mezzadro, un progetto giovanile di Achille e del fratello Pier Giacomo disegnato nel 1957 e prodotto solo nel 1971 da Zanotta. Achille Castiglioni definiva così parte del suo metodo progettuale. L'esperienza non dà certezza né sicurezza ma aumenta invece la possibilità di errore. È meglio ricominciare ogni volta da capo con umiltà perché l'esperienza non rischi di tramutarsi in furbizia. In questo esempio il componente principale di progettazione è il sedile di un trattore degli anni 50, reinterpretato sotto forma di sgabello. In questi anni la cifra progettuale dei fratelli Castiglioni è l'assemblaggio e la riproposizione di oggetti e componenti di uso comune. Infatti in questa immagine vediamo i quattro elementi che costituiscono lo sgabello mezzadro e che sono facilmente assemblabili tra di loro. Il sedile di un trattore, il perno di fissaggio, la balestra e la traversa. Anche il perno di fissaggio è un oggetto familiare usato per il bloccaggio delle ruote della bicicletta, una vita farfalla che consente di serrare bene il tutto senza l'uso di cacciaviti o chiavi. Se guardate bene, i quattro elementi sono riconoscibili in questo schizzo di Achille Castiglioni. La balestra, ovvero il supporto in metallo del sedile, serve a rendere più elastica la seduta. La traversa in legno fornisce invece l'appoggio necessario per la stabilità dello sgabello. Il metodo creativo di Achille Castiglioni è molto intuitivo e lineare e indubbiamente inaspettato. Per usare le sue parole, non pensate di diventare gli inventori del mondo. Non è così e non deve esserlo. Cominciate ad allenarvi all'autoironia e all'autocritico. Pensate che nello stesso anno in cui disegnano Mezzadro, i fratelli Castiglioni continuarono a progettare partendo da oggetti ordinari. Ecco allora Sella, concepita come uno sgabello su cui appoggiarsi, ad esempio, durante una telefonata. Bisogna ricordare il fatto che negli anni 50 gli apparecchi telefonici a filo erano fissi e collocati a muro. Insomma, era uno sgabello per telefono a muro. Il prototipo è stato presentato nella mostra collettiva colori e forme nella casa d'oggi, tenutasi a Villa Olmo, a Como, nel 1957. Qui l'elemento principale di sella è un sellino da bicicletta in cuoio, sostenuto da un tubolare verticale in acciaio, verniciato di rosa e stabilizzato grazie a un basamento dinamico a mezza sfera in fusione di ghisa, che consente un certo margine di movimento. Questo schizzo ci mostra infatti la composizione molto divertente dei tre elementi che costituiscono lo sgabello. È proprio vero che con i loro progetti i fratelli Castiglioni incoraggiavano le persone a sperimentare nuovi e spesso informali comportamenti. Nel caso di sella ci si poteva sedere, dondolare o ruotare a seconda delle diverse situazioni e desideri. A chi le diceva cerco di suggerire diversi comportamenti, sottolineando come il ruolo del design debba essere quello di interprete delle esigenze reali delle persone e nello stesso tempo quello di anticipare e promuovere anche nuove modalità d'uso affinché le persone possano scoprirle entrambe quando utilizzano un oggetto. Passiamo ora alla poltrona cubo, disegnata da Achille Pier Giacomo nel 1957 e concepita per sperimentare nuovi materiali. Qui vediamo uno schizzo iniziale. Cubo è una seduta in poliuretano espanso, flessibile, a densità differenziata. In merito alla sua forma Achille disse se un materiale è morbido gli si può dare una forma rigida. La poltrona appare come un cubo rigido quando non c'è nessuno seduto sopra, mentre assume la forma di una poltrona quando l'utente si accomoda affondando nel sedile. Il sedile è realizzato con un materiale più morbido rispetto ai braccioli, perciò la forma si manifesta solo al momento dell'uso dell'oggetto. Anche questa poltrona è stata presentata nell'ambito della mostra collettiva tenutasi a Villa Ormo a Como nel 1957. In questa mostra i fratelli Castiglioni si sono occupati dell'allestimento di un ambiente per soggiorno che includeva molti oggetti nuovi e inconsueti, tutti progettati per l'uso domestico. Concepiscono un ambiente che si può modificare durante la giornata a seconda dell'esigenza. I fratelli Castiglioni hanno avuto una produzione prolifica e molto creativa e gli oggetti, molti dei quali erano ancora dei prototipi presentati a Villa Ormo nel 1957, lo dimostrano in pieno. Ogni oggetto ha indubbiamente una sua qualità in se stesso, ma nell'insieme la commistione dei diversi pezzi testimonia il loro impegno nel definire quello che poi è diventato a tutti gli effetti il design italiano per l'abitare moderno. L'allestimento dei fratelli Castiglioni era in grado di accogliere molti oggetti, lampade, sedie, tavoli e librerie. Qui vedete la pianta dello spazio loro dedicato condisegnati in diversi oggetti. In effetti qui vedete una fotografia d'epoca di questo celebre allestimento che ha rappresentato nella storia del design italiano un'espressione compiuta dell'abitare moderno. Il loro approccio unico basato sull'uso di elementi ordinari e sull'invenzione di forme nuove e fresche valse ai due fratelli il rispetto dei colleghi e del pubblico. La mostra di Villa Ormo è stata un punto di svolta nella carriera di Achille Castiglioni. In questo scatto fotografico vedete l'ingegnoso sistema di scaffalatura sospeso e montato a parete la libreria Pensile. Quasi per magia la libreria Pensile si aggancia al muro usando un solo attacco meccanico mentre i ripiani sono tenuti insieme semplicemente dalle forze tensive dei cavi. Il sistema è una soluzione perfetta per i piccoli ambienti domestici poiché permette di utilizzare i ripiani come quando e dove servono e te la monti da solo. Mi piace dire molto Ikea. La libreria Pensile è infatti costituita da una minuteria di componenti tra i più semplici in assoluto che danno vita a una soluzione ingegnosa e funzionale e da alcuni anni è di nuovo in produzione. Nel 2016 per rendere omaggio a questa memorabile esposizione a Villa Olmo la fondazione Achille Castiglioni ha ricreato l'insieme di oggetti in una stanza della propria sede. Questa collezione testimonia il gioco, l'ironia e la curiosità del pensiero progettuale di Castiglioni. Questa ricostruzione ci riporta indietro nel tempo, fissandolo in un determinato momento e ci mostra tutta la creatività che ha definito la prolifica carriera di Achille Castiglioni, condensandola in un unico ambiente ricco di oggetti nuovi, giocosi e ironici. Vale veramente la pena di visitarla per assorbirne la magia. Vi aspettiamo in fondazione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!